Don Luca, mi risulta che sia la prima occasione in cui la Chiesa si incontra per parlare di conservazione, gestione e valorizzazione degli archivi correnti. Ma quale rilevanza rivestono le carte moderne e perché soprattutto è urgente e necessario occuparcene? E come garantire efficacemente la trasmissione della memoria? Grazie di questa domanda che in qualche modo consente di riassumere brevemente i contenuti del convegno perché appunto le carte moderne hanno lo stesso valore di quelle antiche soltanto che vengono prodotte adesso per raccontare ciò che riguarda le persone, le decisioni, i diritti, i doveri e le attività prodotte dalla curia e quindi è necessario che siano ordinate, trasmesse ai nostri posteri perché siano conosciute e perché questo avvenga si tratta, e questo è anche proprio lo scopo del nostro convegno di chiarire in particolare le modalità di trasmissione di tutto ciò che produciamo in modalità elettronica perché questa è una novità che fino ad oggi non avevamo ancora affrontato mentre per ciò che riguarda l'archiviazione dei documenti cartacei la Chiesa da secoli ormai ha esperienza e quindi cercheremo di capire come piano piano avventurarci in questa nuova esperienza.